Si rinnova l'evento natalizio gala lirico di beneficenza, giunto quest'anno alla sua ottava edizione. Domenica 5 gennaio, presso il Palapuglisi di Battipaglia, 100 professionisti tra solisti, coro, orchestra e ballerini hanno deliziato i tanti presenti, interpretando alcune aree del Don Pasquale di Donizetti, in formato ridotto e semiscenico, e alcuni brani di musica leggera rivisitati in chiave lirica e accompagnati da coreografie interpretate dai ballerini. Un momento di cultura, ma attento anche al sociale. I proventi della serata verranno infatti devoluti ad onlus e associazioni del territorio che aiutano le persone in difficoltà. Un'attenzione cara anche a Banca Campagna Centro, sempre vicina a eventi come il gala lirico, che danno un sostegno a chi lavora per combattere la povertà o altri problemi che affliggono la nostra società. Siamo arrivati ormai all'ottava edizione, ormai un evento a tutti gli effetti particolarmente sentito nella città di Battipaglia, che vede coinvolte tantissime persone dagli sponsor che accumuliamo quasi 100 sponsor, ha una ventina di collaboratori, ha 100 maestranze tra core, orchestra, corpo di ballo, figuranti. Insomma, è una macchina che sta cominciando a prendere piede sempre in maniera più insistente e forte nella città di Battipaglia. Ringraziamo tra gli sponsor anche la BCC Banca Campagna Centro per questo contributo che ha voluto dare anche quest'anno e che ci permette di aprirci anche ai soci della banca.